In questo paese siamo passati da un'assemblea costituente di 70 anni fa a un paio di bicamerali che hanno cercato di riformare senza successo la Costituzione per arrivare ai saggi di Napolitano, quindi l'ex presidente si era circondato di saggi a cui ha dato il compito di elaborare un progetto di riforma della Costituzione, già questo dà il segno dell'involuzione della deriva delle nostre istituzioni ancora prima di quello di cui stiamo parlando. A gennaio del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato appunto non conforme alla nostra Costituzione il cosiddetto porcello in una legge elettorale che era vigente prima dell'Italicum perché le testuali parole altera gravemente i principi di rappresentanza democratica contenuti nella stessa Costituzione. Bene, di fronte a questa situazione un partito che si chiama democratico ma che da sempre io definisco nei fatti gravemente antidemocratico e che ha la maggioranza di questo Parlamento in concorso col Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto sciogliere le Camere perché questo Parlamento doveva solo andare avanti per l'ordinaria amministrazione e quindi oltre ovviamente alle questioni economiche, alle questioni più rilevanti nel Paese in quell'epoca avrebbe dovuto definire, votare una nuova legge elettorale e tornare ad elezioni. E invece questa maggioranza che cosa fa? Ha prodotto un atto di inaudita gravità proponendo una riforma costituzionale, peraltro proposta dal Governo, sappiamo benissimo che è stato un disegno di legge costituzionale partorito dal Governo, producendo con questo già, come dire, dall'inizio all'origine, secondo me, secondo noi, un grave atto di vera e propria eversione nei confronti delle nostre istituzioni democratiche. Già, come dire, con questa genesi è evidente quale poteva essere del giudizio del Movimento 5 Stelle su questa riforma costituzionale e quindi ancora prima del merito di questa riforma costituzionale. Bene, la riforma costituzionale Renzi, Boschi, Verdini, JP Morgan, che cercano appunto di imporci, secondo noi, ha questo vizio all'origine che va assolutamente respinto. Quindi noi siamo evidentemente favorevoli ad entrambe le emozioni, in particolare quella presentata dal Professor Galli, che io ringrazio personalmente perché questa idea, come dire, almeno per quanto mi riguarda, mi era venuta anche personalmente, ma non essendo un fine giurista o professore universitario come Galli, non avevo avuto modo di elaborarla compiutamente. Quindi noi esprimiamo voto favorevole ad entrambe le emozioni. Grazie.